È stato confermato nuovamente alla guida della CGL, votato a stragrande maggioranza, quali saranno le linee programmatiche del suo mandato? Le linee programmatiche vengono fuori dalla discussione congressuale, dai temi congressuali ma anche poi dalla necessità di stare anche sul territorio con una qualità anche dei servizi perché non basta semplicemente stare dentro gli aspetti teorici e i concetti che magari possono essere condivisibili. In questo caso è chiaramente, prima di tutto però, è chiaro che noi dobbiamo provare a rimettere al centro il lavoro nella discussione del Paese e per quanto in qualche modo compete anche il nostro ruolo, la nostra collocazione territoriale nel nostro territorio. Rimettere al centro il lavoro significa che il lavoro deve essere lo strumento per recuperare le disuguaglianze, per dare un giusto equilibrio anche a una società che oggi è troppo diversa, non troppo diversa, troppo disuguale. E per creare il lavoro c'è bisogno di progettazione, c'è bisogno di progettazione, c'è bisogno di progetti anche pluriannali. Noi pensiamo che da lì bisogna ripartire. Abbiamo in qualche modo ragionato anche su quali possono essere i temi sui quali in qualche modo impegnarci in questo territorio ed è chiaramente uno dei temi principali sarà quello delle aree interne, quello anche di un stimolo a quella che è una imprenditorialità di questo territorio che ha dimostrato per tanti anni anche di essere capace, di essere presente, di dare anche occasioni di sviluppo a questo territorio che la frammentazione che però poi ne è conseguita non ha riuscito poi a essere mai, diciamo, non è mai in qualche modo fatto quella massa critica in grado di guardare a un futuro che è diverso in una globalizzazione che impone anche cambiamenti alle imprese. E poi tutto quanto in qualche modo l'altra è il turismo. Noi pensiamo che il turismo deve essere una delle, per quella che è la configurazione di questo territorio, per quello che è il patrimonio ambientale, per quello che è in qualche modo anche la capacità e la cultura di accoglienza che questo territorio ha, io penso che il turismo è un terreno sul quale avere una progettualità che non sia legata solo all'occasionalità o comunque alla bravura di qualche operatore. Bisogna in qualche modo anche qui provare a fare massa critica, mettere insieme le competenze, i saperi e anche le esperienze perché affinché si realizzi questo.